I torresi si confermano fedeli alle tradizioni nella giornata di Marte di Grasso. Lasagne, chiacchiere e sanguinaccio non mancano sulle tavole imbandite a festa. Folla di mamme con bambini mascherati questa mattina a Piazza Santa Croce, in occasione del Carnevale. Cosa ha preparato di buono per la giornata di Carnevale? La lasagna, le chiacchiere e il sanguinaccio. Ogni anno è abituata a cucinare queste cose per la famiglia? No, è la tradizione, si tramanda tra mamma e figlio, ma pure lei farà la stessa cosa che ho fatto io. Le famiglie apprezzano come sempre? Certo, è buonissima, come si fa a dire che non è buona? La lasagna, buonissima. Anche dolci, chiacchiere? Chiacchiere, sanguinaccio, tutto. Le famiglie apprezzano, i bambini? Sì, sì, ecco lì, sono là tutte e due. Lasagna, lasagna sicuramente. Per tutta la famiglia? Per tutta la famiglia, sì, sì. E poi stiamo facendo la festa ai bimbi, ora proprio. Aspetta, no, no, no. Ciao, no. Per questo giorno di Carnevale che cosa avete preparato? Abbiamo preparato tante cose buone come sempre, lasagne, chiacchiere. Per questo giorno di Carnevale che cosa avete preparato di buono? Quello che preparano tutti quanti, una bella lasagna che già se l'hanno mangiata domenica. Mo' si mangiano quelle che è rimasto. Come dolci, le chiacchiere? Non possiamo, si ingrassa. Vado da mia suocera a mangiare, la lasagna, me la fa la mia suocera. Anche dolci, chiacchiere, tutto pronto? Sì, sì, chiacchiere, tutto fatto da lei. In famiglia apprezzano i bambini soprattutto? Molto, moltissimo, soprattutto i bambini, sì. No, ma anche noi, veramente, soprattutto se già è pronta. Cosa avete preparato per questo Carnevale? La lasagna, poi ho fatto un bello sbiffo al forno con i broccoli, il sugo con le tracchie, carne e basta. I broccoli e poi abbiamo le chiacchiere, il sanguinaccio e basta. I famigli apprezzano, i bambini apprezzano? Sì, 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 sì. Gli piace tutto.